Un modo per sentirsi meno lontani da casa, accompagnati dalle melodie delle canzoni tipiche di questo periodo. E' stato questo il concerto del Natale ucraino, la manifestazione andata in scena ieri pomeriggio alla sala polifunzionale di Pineto. Giovani talenti ucraini si sono esibiti sul palco, regalando momenti di spensieratezza alle tante persone che compongono la comunità ucraina presente sul territorio. Tra queste una giovane artista che ha partecipato anche all'Eurovision e ha suonato brani con un'arpa. Voci che hanno intonato in Ucraino le melodie natalizie più conosciute. Il Natale ucraino si è svolto a Pineto, uno dei comuni più attivi sul fronte della inclusione sociale e dell'accoglienza e che, anche grazie alle associazioni presenti sul territorio, si è mobilitato sin dallo scorso febbraio, subito dopo l'invasione russa, per ospitare persone in fuga da una terra martoriata dalla guerra. Ed ora la comunità ucraina conta oltre 400 persone nel comune della costa Teramana. Per tutte loro il Natale ucraino ha rappresentato un momento di gioia e di rinascita. C'è il Natale ucraino,